Ciao a tutti, questo è il primo video, l'argomento è percezione-forma, un argomento molto importante per chi disegna, perché disegnare è la rappresentazione tramite il segno della forma di un qualsiasi soggetto che si vuole disegnare. Un argomento un po' sottovalutato da chi disegna da poco tempo, quindi autodidatti o comunque persone che sono all'inizio del loro percorso, invece è un argomento che reputo molto importante. Nell'esempio disegnato, che sto disegnando, devo fare un esempio sull'occhio, però poi in generale potevo farlo per qualsiasi altra cosa, oltre oggetti, però l'ho fatto sull'occhio, poi comunque ora lascerò un attimo perdere l'esempio disegnato che lo commenterò all'ultimo. Faccio un altro esempio, un pochino pratico per capire appunto il senso del video. Se io do da un gruppo di persone da disegnare un triangolo equilatero, sicuramente queste persone faranno un lavoro molto coerente con quello che è appunto la forma di un triangolo equilatero, quindi non sarà un grosso problema perché in qualche modo tutti sanno come è fatto un triangolo equilatero. Se invece faccio alle stesse persone disegnare un viso, la percezione che queste persone o l'interpretazione che avranno del viso sarà diversa da persona a persona, alcuni visi saranno più coerenti con la realtà, altri meno, altri più deformati, eccetera. Il motivo è abbastanza semplice, non soltanto perché il triangolo equilatero è tra i poligoni più semplici che ci sono, ma perché si conosce come è fatto, quindi si conosce le caratteristiche che ha i lati e gli angoli uguali. E quindi è facile farlo perché si hanno i dati, le nozioni necessarie per realizzarlo. Quindi non solo sarà fatto correttamente, ma saranno anche un po' tutti simili perché la forma comunque è quella. Oltretutto ci sarà anche chi saprà disegnare un triangolo ancora meglio, anche se non può pensare che è un po' strana come cosa, proprio chi magari lo sfrutterà anche una costruzione geometrica, quindi la costruzione di un triangolo equilatero segue appunto un classico metodo per costruire un triangolo equilatero e avrà ancora un triangolo ancora più preciso degli altri. Questo così come esempio per far capire come la conoscenza e gli strumenti per realizzare comunque quello che si vuole disegnare sono molto importanti. Conoscenza, quindi conoscenza appunto dell'oggetto, di quello che si vuole disegnare, eccetera. Gli strumenti poi magari andiamo un attimo a vederli. Visto che si parla di errori o comunque di immagini percepite in maniera comunque sbagliata, vorrei precisare che gli errori li facciamo tutti, li faccio io, li fa il disegnatore più bravo del mondo a fare gli errori e chiunque fa errori quando disegna perché i disegni sono fatti a mano e non è che siamo fotocopiatrici, eccetera. Quindi è normale fare errori. Appunto, molti disegnatori appunto dicono che non è tanto importante fare gli errori ma quanto a saperli nascondere bene. Ovviamente sarebbe meglio non farli ma è impossibile, i disegni sono fatti a mano quindi l'errore ci sta. Però magari evitare gli errori troppo grossolani. Ecco. Un altro fatto un pochino che può essere anche una conseguenza di questo problema è che quando si inizia a disegnare ci saranno anche tanti parenti e amici che vi faranno mille complimenti in buona fede dicendo tipo i tuoi disegni sembrano veri, no? È una delle classiche cose che viene detta. Ringraziate però ecco, non fidatevi troppo dei complimenti perché spesso potrebbero anche portare un po' a far sì che vi innamorate dei vostri disegni e vi impantanate un po' a quel livello e magari non riuscite poi a migliorare più di tanto perché comunque convinti dal fatto che appunto questi disegni sembrano veri perché appunto smettersi a studiare per migliorarli quindi siccome non è così spesso e volentieri sempre ma specialmente all'inizio si deve migliorare e migliorare appunto in qualche modo fidatevi un po' di più delle conoscenze che poi vi andrete a cercare e andrete a studiare eccetera perché poi saranno quelle che vi daranno un pochino più di sicurezza come ad esempio quando fate un triangolo equilatero sapete le caratteristiche quindi lo disegnate con più sicurezza e nessuno potrà dirvi non è un triangolo equilatero per quanto riguarda appunto gli strumenti una cosa molto utile ad esempio sono le costruzioni o comunque le misure della geometria la matematica applicata al disegno è molto utile è molto importante una cosa che si è sempre fatto un esempio su tutti ma è soltanto una parte anche la prospettiva ad esempio è diciamo che senza alcuni strumenti se vogliamo chiamare così matematica geometria il disegno comunque ha avuto un'evoluzione probabilmente diversa o comunque sono strumenti molto utili ovviamente tutti gli autodidatti o chi impara a disegnare da solo avrà comunque grosse difficoltà ma le difficoltà ce l'ha anche chi studia che fa chiedemi eccetera però difficoltà ovviamente ci sono e bisogna capire che è importante gestire l'apprendimento con un percorso fatto di studio e di esercizio e ci vuole tempo non è una cosa che si fa con due tutorial o questi immagini prese così due video da dieci minuti ci vuole proprio un percorso quindi va bene imparare da soli ma anche da soli però ci vuole tempo e tanto studio per quanto riguarda il mio canale si parlerà di geometria come costruzione non dai disegni perché comunque non mi interessa in questo canale poi se qualcuno vuole vedere qualche mio disegno che non sia struttura eccetera in giro ci sono quindi può andare a vedere tranquillamente adesso vado a commentare l'esempio disegnato è molto semplice sono due visi che hanno occhi differenti uno più un pochino più realistici l'altro un po stile bambola comunque deformati dando un aspetto non proprio piacevole al viso l'esempio che mi interessa per questo video è anche l'analisi in qualche modo della forma dell'occhio nello specifico che poi sopra andrò a fare che dimostra in qualche modo come nonostante le forme sono diverse il cervello riconosce le immagini come occhi nonostante le forme sono completamente diverse quindi è importante cercare di capire appunto quando si disegna il più possibile le caratteristiche dell'oggetto che si fa disegnare ecco che faccio questo esempio adesso questo è un occhio un po stile bambola molto approssimativo questo è un occhio la costruzione geometrica dell'occhio come dovrebbe essere nella realtà è molto semplice questo è l'occhio costruito sulla base della forma geometrica accanto che dovrebbe avvicinarsi di più alla realtà rispetto al primo andrò poi con dei pallini proprio a segnare la forma degli angoli o le punte di questi occhi disegnati proprio per vedere le differenze anche molto sostanziali e che sono diverse e creano due forme diverse adesso questo ha due punte quindi due angoli questo addirittura ne ha quattro quindi il doppio alla forma geometrica e questo ne ha sempre quattro perché è l'occhio che si rifà la costruzione geometrica quindi in qualche modo le forme sono proprio diverse anche gli spigoli gli angoli sono diversi se come se una persona dico di disegnare un triangolo e poi in realtà fa un quadrato quindi se volete non disegnare triangoli per quadrati cercate di approfondire studiare studiare bene quello che dovete disegnare perché è molto molto importante il video è praticamente finito saluto tutti grazie a chi vuole iscriversi e ciao ciao